Musica Nella corsia 3 c'è Emanuela Cuffietta bianca in alto delle schermi, 200 stile Brava Emanuela, si è sparata così devi andare, bravissima Brava Emanuela, vai Il vantaggio Emanuela in questo momento, corsia 3 Corsia 4 c'è Martello Ragazza del 2004 va molto bene Nella corsia 5 c'è Stabile La compagna di squadra Vanno a finire i primi 100 Brava questa Martello Emanuela ha fatto un bel 100 Brava 1 e 14 Non è stata velocissima, vediamo adesso i secondi 100 Adesso deve far vedere la differenza Emanuela, fai vedere la differenza Brava questa ragazzina della corsia numero 5, 4 da Martello E' un 2004 addirittura Emanuela, va a spararsi queste ultime due 50 metri Ultime due vasche Dai Emanuela, dai Fondo Deve scendere se vuole avere chance Vai Vasca finale, viene fuori la Martello in accelerazione Non dovrebbe avere problemi Emanuela Ma molto brava questa Martello Emanuela chiude senza problemi Scende dal suo tempo a 2 e 34 Brava Grazie